Occlusioni venose retiniche. Abbiamo diversi tipi di occlusione retinica. Possono essere coinvolte la vena centrale retinica, la vena emisferica superiore e inferiore, la temporale superiore, la nasale superiore, la temporale inferiore e la nasale inferiore. Chiaramente in aggiunta a queste possiamo avere anche occlusioni venulari e occlusioni nel cosiddetto collettore maculare. L'incidenza è molto alta perché dopo la retinopatia diabetica le occlusioni venose sono quasi le patologie più, e dopo anche la retinopatia ipertensiva, le occlusioni venose sono le patologie vascolari più frequenti. Colpiscono dalle 2 alle 8 per mille persone, anche di ogni età, pur se la media è compresa tra i 60 e i 70 anni. Il 10% dei soggetti presenteranno a 5 anni una occlusione anche nell'altro occhio. Quindi abbiamo due grandi capitoli della trombosi venosa centrale della retina. Le occlusioni nel soggetto giovane, fino a 40-50 anni, e occlusioni nel soggetto over 50 anni. Fattori di rischio quali saranno? In generale, cardiovascolari, quindi alterazioni reologiche, trombofilia, fattori di rischio locale e sintomi e sindromi di iperviscosità. Quindi fattori di rischio cardiovascolare sono l'aterosclerosi, l'ipertensione, il diabete e il fumo. Aterosclerosi, ipertensione, il diabete e il fumo sono fattori di rischio cardiovascolari. Poi abbiamo le alterazioni reologiche. Qui c'è un aumento di viscosità, ematocrito e temperatura. Quindi aumento di viscosità, ematocrito e temperatura. Trombofilia, iperomocisteinemia, sindrome antifosfolipidi, contraccettivi orali, fattori di rischio locali come il glaucoma, sindromi da iperviscosità come la policitemia, la sindrome da macroglobulinemia e il mieloma. Quindi cardiovascolari, aterosclerosi, ipertensione, il diabete e il fumo. Alterazioni reologiche, aumento di viscosità, ematocrito e temperatura. Trombofilia, iperomocisteinemia, sindrome antifosfolipidi e contraccettivi orali. Fattori di rischio locali, quindi glaucoma, sindromi da iperviscosità, policitemia, macroglobulinemia e il mieloma. La patogenesi dell'occlusione. Allora, innanzitutto partiamo dalla vena centrale della retina. E qui il tronco della vena centrale, abbiamo detto un sito preferenzialmente di occlusione, perché esce dall'occhio attraverso il canale sclerale, che è stretto e incomprimibile insieme all'arteria centrale della retina. Quindi esse sono unite da una guaina comune, però se l'arteria si inspessisce, va a comprimere anche la vena, dando luogo a turbulenze di flusso, chiaramente che poi esitano nell'evento trombotico. Quindi questo è classico nel soggetto iperteso e udite udite aterosclerotico. Quindi una patologia venosa è causata da una patologia arteriosa, per un rapporto di contiguità anatomica. Il canale sclerale più stretto viene ad essere più stretto anche per fenomeni di senescenza del collagene. Quindi la vena può ritrovarsi compressa tra un'arteria già magari di per sé dura e la parete del canale sclerale, che è di per sé stesso rigido. Poi abbiamo l'occlusione di ramo della vena retinica, quindi un ramo della vena retinica. Si parla di occlusione della branca venosa temporale superiore e inferiore in corrispondenza degli incroci tra vene e arterie. Nel 97% dei casi l'arteria passa sotto la vena, quindi l'arteria retinica può indurirsi e schiacciare la vena, determinando turbolenza e blocco. Quindi la patogenesi dell'ostruzione di un ramo, cioè di solito un ramo di temporale superiore e inferiore, è sempre la stessa. Cioè c'è un blocco per rispessimento dell'arteria che passa sotto la vena, quindi in corrispondenza degli incroci. Poi ricordiamoci che l'angiografia retinica ci fa vedere come nelle fasi tardive il mezzo di contrasto fuoriesca. Abbiamo due tipi di occlusioni venose. Le occlusioni venose ischemiche e quelle non ischemiche o edematose. Nelle ischemiche l'occlusione è talmente grave che proprio il fondo dell'occhio è coperto da emorragia, quindi c'è proprio una ischemia, c'è un blocco proprio venoso totale, tale che a livello arterioso si rompono le arterie e c'è appunto l'emorragia. Quindi il blocco venoso è tale da impedire il flusso arterioso e questo è il tipo ischemico. Poi c'è il tipo non ischemico edematoso, in cui il flusso in verità è soltanto rallentato. Se abbiamo ischemia a livello maculare non possiamo ridare acuità visiva. Se abbiamo un edema maculare perfuso invece dobbiamo lottare per tutta la durata della malattia contro l'edema maculare. Quindi ricordiamoci che questa è una malattia a termine perché prima o poi la retina mette in funzione dei collaterali di compenso. Quindi la patologia di solito non dura meno di due anni, spesso dura anche tre o quattro anni, quindi la forma ischemica dovrà, nel caso di forma ischemica, la nostra principale preoccupazione dovrà essere di evitare complicazioni. Quindi se c'è una forma non ischemica invece dobbiamo preservare la macula con le stesse armi per quanto riguarda la retinopatia. Quindi questo è un aspetto simile. Il quadro finale si ha comunque nelle forme ischemiche. E cosa succede nel quadro finale? C'è innanzitutto ischemia retinica, proliferazione neovascolare, glaucoma neovascolare o glaucoma del centesimo giorno. Quindi ischemia retinica, proliferazione neovascolare, glaucoma neovascolare. Le occlusioni nel soggetto giovane. Allora qui si parla di soggetti in meno di 50 anni. Di solito c'è la forma perfusa. Quindi abbiamo eziopatogenesi, sempre quella, quindi aterosclerosi, trombofilia e sindrome da iperviscosità. Molto importante l'omocisteinemia. Poi ricordiamoci anche il glaucoma, il papilledema d'astasi in caso di un tumore benigno possono essere cause. La cannabis, lo yoga dove spesso e volentieri ci sono posizioni a testa in giù. Quindi se l'edema è modesto ci si limita a guardare e si valuta la gravità dell'interessamento maculare. Ma è molto importante capire il motivo della trombosi retinica. Quindi ricordiamoci che nel giovane soprattutto le cause sono la papilledema d'astasi, l'ipromocisteinemia, il glaucoma, la cannabis e la posizione yoga a testa in giù. La terapia dell'occlusione venosa è come al solito con anti-VGF e steroidi, quindi è sempre così. In un'occlusione venosa di qualunque tipo e qualunque sede, se si ha edema maculare perfuso, non ischemico, dobbiamo antagonizzarlo con trattamenti endovitreali. Nelle occlusioni di branca utilizziamo anche magari il laser, il quale non è purtroppo utile, abbiamo detto, nelle sequele dell'occlusione della vena centrale. Quindi ricordiamoci, dobbiamo portare il paziente al termine di questi 2-3 anni per fargli fare le anastomosi. Poi abbiamo la tomografia a coerenza ottica angiografica, quindi l'OCT angiography. Poi alcune domande. Quali sono i sintomi della trombosi venosa retinica? Se la trombosi è modesta c'è semplicemente un appannamento del visus, magari specialmente al mattino al risveglio. Quindi da una settimana a 10 giorni il paziente ha questa problematica e quando si alza in piedi il disturbo passa. Se la trombosi è grave c'è proprio una riduzione brusca dell'acuità visiva. Poi abbiamo le forme ischemiche in cui invece il calo del visus è molto grave. Quindi le forme perfuse, mentre nelle forme perfuse abbiamo detto i sintomi peggiorano col tempo. Quindi la forma ischemica c'è un calo del visus quasi improvviso. La terapia anti-VGF si fa solo per la forma ischemica o anche per la non ischemica. In verità si fa per tutte e due. Quindi gli anti-VGF si utilizzano tanto nella forma ischemica quanto per la forma non ischemica.